ciao a tutti ragazzi qui Alec oggi siamo qui tornati sul mondo di Alec oggi è il trentesimo episodio in teoria doveva venire Yagidale ma l'episodio dove lui è venuto ospite non ha raggiunto i 1000 like come avevamo chiesto e quindi verrà ma non in questo episodio non so quando e in questo episodio cercherò di lasciare l'audio di gioco vediamo se riesco vediamo come viene se dà fastidio lo metterò insomma non troppo alto e ma cosa dobbiamo fare oggi come sapete come avete votato nell'ultimo episodio andremo a collegare non prima a trovare il villaggio dei villageri che avevo trovato nello scorso in un episodio tanto tempo fa non ricordo quanti episodi fa e con la nuova fabbricata di binari che adesso vi faccio vedere come modificato andremo a fare i binari necessari per collegare e portare i villageri qui anche in questa base e per fare poi delle cose ora prima di iniziare però l'episodio voglio ricordarvi che venerdì è uscita l'ultimo episodio della ctm fatta con ferrix atmosphere sono stati cinque episodi quello il quinto andatelo a vedere ragazzi lo trovate qui sotto in descrizione anche qui in alto a destra sulla i è una serie importante c'è la playlist comunque rimarrà sul page del canale chi la vuole seguire sono cinque episodi è figa è stata la nostra prima ctm anche la mia prima probabilmente da mercoledì inizierà ogni mercoledì una nuova ctm che sarà o the island of junara o the ocean island in base a quello che avete votato in quell'episodio ecco perché andarla a vedere perché lì dovete votare e il lunedì e il venerdì invece usciranno due episodi del mondo di alec quindi tre episodi di minecraft a settimana rivoluzione chi mi segue per minecraft sarà sicuramente contento e quindi niente quindi passiamo all'azione perché verrà un episodio lungo non so se riuscirò a farlo con un episodio altrimenti il continuo lo vedrete venerdì eccola qui ragazzi come l'ho chiusa la nostra fabbrica di binari infinita questa farm e per chi volesse vedere la costruzione rimando all'episodio precedente lo trovate comunque qui sempre in alto a destra la i aprite c'è 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 la scheda o comunque nella playlist del della serie comunque l'episodio precedente in pratica si attiva una leva da qua e si cominciano a sfornare i binari qui c'è una porta in pratica come vedere i binari un po rimangono qui questa è una piattaforma ho fatto per poter entrare vedere camminare quelli che cascano vanno lì in raccolta verso degli hopper che li portano dentro una box questi li posso tranquillamente raccogliere e adesso la lasciamo in funzione un po e andiamo poi a vedere tanto l'aveva anche da qua la posso disattivare e andiamo a vedere poi giù quanti ne sono stati prodotti in questo lasso di tempo qui si scende e qui c'è la box 47 come vedete rende poi qualcuno ho preso io ci abbiamo già diversi io direi che chiudiamo qui la porta la mettiamo in funzione e la lasciamo trapanare mentre noi facciamo altro allora in teoria il villaggio molto comodo come fanno vedete quella riempirà la box poi non so dove cazzo finiranno i restanti vabbè ne farà tantissimi qui intanto questa box c'è un po di roba mista vabbè che in teoria il villaggio è tutto in quella direzione parecchio parecchio lontano quello che mi serve però sicuramente a un minecart e per fare il minecart ci vuole il ferro ok andiamo a vedere se abbiamo ferro in casa altrimenti sono cazzi noi abbiamo di meglio ragazzi noi abbiamo il minecart ok poi qua abbiamo dei binari normali di uno stack di prendercelo perché non si sa mai a questi sono gli attivatori questi ci serviranno pure gli attivatori perché se non sbaglio questo è quello alimentato la lui ci servirà perché perché sì e ci serviranno ma sa anche le torce le torch rest on torch ma da faccia non mi ricordo bene se va messa una sotto ogni binario per attivarlo o se una ogni tot perché ne attivano parecchie però nel dubbio dovremmo farne tante allora vediamo quel ferro come siamo messi a 17 pezzi ci ripetendiamo perché ci possono tornare utili diamanti ne sono rimasti tre resto ce ne abbiamo un pacco l'andiamo a prendere almeno tre stack e legno l'abbiamo non penso proprio infatti no però quello non è un problema perché lo andiamo a fare fuori ok adesso ho fatto un po di legno qui dovrò comunque organizzare bene le foreste per cercare di organizzare al meglio la mia produzione di legno perché così è veramente fatta la cazzo di cane ok andiamo a fare tanti bei bastoncini e tante belle torce redstone ok poi intanto andiamo così ragazzi ci servirà magari anche una leva ma ce la facciamo la insomma non è un pulsante non c'è un cazzo andiamo lì tanto il legno lo troviamo anche lì e andiamo a vedere nel frattempo in tutto questo tempo quanti cazzo di binari si sono fatti da sotto raccogliamo questi qua che non so pochi bam sono una cifra già questi ok andiamo qua sotto vediamo un po madonna ragazzi cinque minuti guarda già i stack da 64 io direi di prenderne quanti possiamo tanto qua questi li lasciamo poi se ci servono gli altri vediamo a prendere qua poi richiudiamo la porta rimandiamo in funzione riempiamo quella box si sta facendo noi noi ce e quindi andiamo a dormire prima di incamminarci intanto sento rumori di di una strega e non capisco dove cazzo sia probabilmente sotto terra perché è da un po che la sento sta cazzo di strega vabbè dormiamo ok ragazzi adesso dobbiamo andare verso quella direzione se non sbaglio e ho già trovato le coordinate e me l'ho già tornato e andando dritto sempre dritto dovrei prima o poi imbattermi nel famoso villaggio è quello che intendo fare però a cielo al pollo che ho pollo ho cibo in abbondanza 56 cotti dovrebbero bastare avanzare fortunatamente la farm di polli è tipo infinita e quindi niente ragazzi adesso quello che dovrò fare è camminare 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 cercando di mantenere però la direzione perché se mi faccio deviare dagli alberi e devio troppo potrei non incrociarlo mai quindi per ogni volta che mi sposto a sinistra poi devo ricordarmi di spostarmi un minimo a destra altrimenti mi perdo easy poi vorrei mettermi dei blocchi in mano perché almeno facilito eventuali scalate tipo questa facendo così molto pigramente ok qua stiamo cascando alla grande ma soprattutto far passare una ferrovia in mezzo a tutti questi alberi quanto cazzo di tempo ci impiegherà e ci impiegheremo ok siamo sbucati dalla foresta e siamo entrati in un bioma della pianura e il villaggio è in questo tipo di bioma ora mi sembra strano che però io abbia già più o meno raggiunto mi sembra abbastanza strano però non è detto che io mi sbagli no qua fiori arancioni cioè in realtà spero proprio di no spero che sia proprio qui in teoria dovrei avvistarlo facilmente se fosse qui ma io non lo vedo quindi scusate ragazzi se il mio tono di voce potrebbe sembrare basso o la mia posizione strana ma ricordo che ho sempre subito un'operazione e ho la ferita ancora che si sta rimarginando quindi sto registrando in condizioni abbastanza non normali tanto qua non mi sembra ci siano villaggi spero di stare andando nella direzione giusta però la pianura ci piace piace perché far passare i binari qui sarà molto meno problematico che nel tratto della foresta che non è piccolo sono sbucato in un'altra pianura ma del villaggio non c'è nemmeno l'ombra ora c'è un piccolo bosco che potrebbe coprirmi la visuale spero che il villaggio sia dopo questo bosco ma siamo arrivati addirittura al mare ragazzi io villaggi non ne ho visti o non era proprio assiniera leggermente più di qua a facciamo una cosa prendo le coordinate alle coordinate sono andando verso di qua che cosa aumenta aumenta la x e rimane più o meno costante la z giusto però noi dobbiamo tornare indietro perché è meno 700 la x e meno 779 siamo andati oltre il villaggio e 800 e passa quindi era più a sinistra e prima non abbiamo visto perché era più a sinistra ho capito quindi la direzione era giusta ma essendo più in là era sulla pianura dove siamo passati ma non l'abbiamo visto perché eravamo troppo da spostati dall'altra parte quindi in teoria dovrebbe essere semplicemente di nuovo verso la base ma tutto da st'altra parte guardate qua i fiori ragazzi ma che figata veramente pieno di fiori qua a tana per il villaggio e della giù era molto prima un fatto non vederlo comunque sono basti sono passata a fianco boh beh mi sono spostato no vedete quel bosco ma mi ha fregato quel bosco io vi ricordate quando ho detto sono sbucato in pianura e sono uscito da un boschetto io sono passato attraverso il bosco non l'ho visto perché vedete era a fianco al bosco quindi non è troppo lontano da casa ragazzi non è troppo lontano però adesso si sta facendo notte ma è pieno di pecore quindi penso di potermi fare un letto e magari metterlo nel villaggio eh che dici pecora la dai la tua lana brava pecora non mi ha dato la lana perché perché è tutto pieno ok fiorellino via merda è già notte no ragazzi se mi muogliono i villaggeri dagli zombie giuro che metti giusto letto e dormi su cazzo due anni l'unica cosa che spero è che non siano morti non sia morto nessuno perché se no somma donne un villaggio abbandonato è l'ultima cosa che mi serve anche perché questo era il più vicino a casa ed era anche bello grosso guardate quello zombie guardate lo guardate devi stare via dal mio villaggio via uno scheletro villager andate al riparo andate al riparo vi proteggo io da questi figli di puttana che è uno zombie morto io qua già vedo a ma questo era il villaggio che avevo trovato eh sì è lui è lui perché c'è sta la roba ricordate la box che ho fatto dove ho messo la roba eh sì questo ci sono dei villaggeri vivi e questo mi fa piacere non ce ne sono molti ma ci sono allora quello che dobbiamo fare abbiamo la box perfetto quindi possiamo posare tutti i binari qua nel frattempo minecart il ferro ok quello che andremo a fare adesso è riparare questo bordello di villaggio perché è un bordello perché probabilmente il bug che c'era stato al mio mondo è andato a influire anche su questo povero villaggio che si è praticamente buggato io mi metto a fare legno eccetera vi faccio riparazioni ragazzi e poi taglio il pezzo perché non mi sembra che voi vogliate vedere le riparazioni ok ragazzi ho fatto il meglio che potevo ho cercato di aggiustare queste case le chiudere le riattopalle non provo alla perfezione ho messo fiaccole un po ovunque ho cercato di mettere doppie porte dappertutto perché con le porte ricordo che i villager si moltiplicano in teoria e ogni tot villager c'è spavano dovrebbe sparare anche un golem a proteggerli qui intanto abbiamo tre villager ma vediamo se aumenterà il numero altrimenti farò più porte ma quello che mi interessa adesso è il collegamento della ferrovia allora allora non perdiamoci allora il nostro villaggio dovrebbe essere da quel lato la quindi io direi di fare un pillar ok per ricordarci la direzione del villaggio ora dove far partire la ferrovia io direi di evitare questo banco di alberi quindi di farla partire magari da qua liberando un minimo la terra che c'è rimasta allora direi che da qua si può far partire la nostra stazione d'arrivo ora la nostra stazione d'arrivo sarà caratterizzata da un arrivo qui c'è un pulsante qui il binario andiamo a prendere i binari tanto ragazzi scrivete nei commenti i quanti io voglio mettere questo qua quante porte bisogna fare per far riprocreare un villagero ogni quanti da un golem come funziona un po perché io ho un po scordato come funziona e mi ricordo solo che più porte fai meglio è però per il momento hanno fatto un tot allora quindi questo è il binario iniziato eh no non messo male ok è il binario iniziatore attivatore perché si dice attivatore perché metti un pulsante sopra va a craftare questo pulsante basta un pezzo di legno ok in teoria ok si attiva perfetto quindi se c'è il minecart gli dà lo scatto diciamo tra virgolette e poi dopo in teoria se io metto questi subito dopo perché li mette così tutti dritti per dritti ok quando io premo questo ovviamente questi non sono attivi ok quindi sotto ci dovrò mettere le torce redstone come pensavo solo che volevo vedere una torcia redstone quanti ne illumina un bel po' quanto pare un bel po' e la madosca quanti ne attiva ma li attiva tutti se sto a defila pare che è infinito ma vediamo ok abbiamo fatto un bel tratto in teoria se io metto una torcia redstone qui non è che mi attiva attiva tutto si è collegato no vedete quindi non però bisognerà mettere una ogni boom una cifra allora la mia intenzione però era quella metterla sotto terra però volevo vedere quanto era la lunghezza allora fino a lì ok no ok qua non funziona qua arriva fino alla fine no ne avanzano una due tre perfetto quindi in pratica una due tre la dovrei mettere qua ovviamente sotto al coso quindi tipo la sotto messa là sotto in teoria dovrebbe arrivare fino all'inizio ok perfetto e attiva fino alla certa ok quindi da qua 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 10 vediamo se anche 10 anche dall'altra parte 3 4 5 6 7 8 che più o meno 20 blocchi ok ogni totte la devo mettere ragazzi non è un grosso problema quindi in pratica già quasi la metto un'altra qua sotto attiva tutto e va pure fino a giù perfetto perfetto andiamo a dormire praticamente la dobbiamo proseguire così con tanta pazienza anche i binari ci stanno e poi la testiamo quindi se vogliamo dormito nel frattempo se vogliamo fare un primo test metto il minecart lì ci salgo sopra premo il pulsante e non succede un emerito cazzo perché fa così ok ragazzi è pure che ho capito in pratica ci vanno sempre questi qui ragazzi non c'era bisogno di un attivatore quindi ovviamente però deve essere spento cioè quindi dovete fare in modo che la torch di redstone dia attivi fino a qui perché se attiva pure questo appena mettete il minecart quello parte perché è già attivato quindi lo mettete lì che è spento e quello lo attivate col pulsante quindi li mettete qua mettete il pulsante quello si attiva e poi questi sono attivati e quindi proseguite fino affinché si può poi se blocca con shift scendete e con qualche botta lo spaccate ok quindi abbiamo capito bene il funzionamento quindi non c'è bisogno di nessun tipo di binario alternativo ma da faga c'è bisogno solo di questi quelli alimentati e di torch e redstone una ogni tipo 10 qui in 10-12 blocchi vabbè quello che è metti ogni 10 non è tanto quindi ok nel prossimo episodio ragazzi la finiremo per il momento ci fermiamo qui probabilmente parte la farò off camera dal prossimo episodio la cercheremo di finire l'ultimo tratto vediamo un po' di parti critiche e cerchiamo di vedere pure di moltiplicare questi cazzo di villageri detto questo da Alec è tutto ci vediamo al prossimo episodio ricordate di lasciare like e commentare soprattutto al prossimo episodio un saluto che ci vediamo al prossimo episodio